buongiorno benvenuti a questa è la segna stampa di domenica 17 giugno vediamo quali sono i temi fondamentali oggi sui giornali devo dire la verità che in realtà ci sono tutte le questioni che riguardano ancora l'ONG ma riguardano anche come si chiama il caso dello scandalo di roma ma la cosa più bella oggi c'era in prima pagina il fatto quotidiano grazie a daniela ranieri perché è la cosa più bella perché dimostra che l'italia non è l'unico paese di cretini anzi lo è forse meno di tanti altri e la penguin random house è una grandissima casa editrice britannica diciamo inglese americana però sostanzialmente britannica sapete quel c'è quel pinguino in genere c'è quelle copertine arancioni o ne compro sempre dei libri di woodhouse nella penguin almeno così compravo nel passato ciao rita buongiorno che cosa ha deciso che nel futuro pubblicherà sto leggendo la prima pagina del fatto quotidiano tenendo conto pubblicherà autori tenendo conto dell'etnia di questi autori del genere di questi autori della sessualità di questi autori della mobilità sociale di questi attori cioè se erano poveri e poi sono diventati diciamo scrittori e della disabilità di questi autori una scrittrice inglese fantastica di cui non mi ricordo il nome ma sarà importantissima e me ne scuso con lei ha detto ha fatto un tweet ieri in cui ha detto beh allora insomma possiamo pensare che i prossimi romanzi editi dalla penguin saranno dei caraibici sulla sedia a rotelle gay figli di poveracci e e quelli sicuramente potranno fare dei grandi romanzi insomma questa stronzata è stata scritta da una casa editrice fondamentale importantissima come la penguin random house allora se questo è il livello della diciamo del generalizzato del politicamente corretto capiamo i veri rischi che oggi noi stiamo correndo con il pensiero unico cioè sostanzialmente vi ripeto secondo lei bisogna tenere conto nella pubblicazione di un romanzo della etnia del sesso della disabilità cioè ma questi scrivono questi vogliono romanzieri o vogliono fare che ne so non so che cosa dire è una roba che mi fa venire e mi fa capire che tutto il resto non conta cioè se la cultura è diventata questa stronzata bene benissimo che ci si informi attraverso la rete attraverso internet attraverso quelli che la cultura chiamano rutti di salvini di farage di trump mettete qua penguin e dall'altro trump chi preferite io trump metti qua penguin e qua salvini chi preferisci salvini metti qua penguin e metti qua un nicolas farage chi preferisci farage cioè è una cosa incredibile devo dire che poi insomma e di storia oggi ce ne sono tantissime altre oggi non sono usciti i quotidiani del gruppo espresso la repubblica che si chiama oggi gedi perché si è suicidato uno dei suoi dipendenti per un cambio di sede che volevano fare alla sua tipografia si è suicidato quindi anche in maniera comprensibile il gruppo non ha non sono usciti ecco in questo quadro in questo quadro di lavoro di politica e di cose politicamente corrette io trovo fantastica fantastica l'intervista oggi sul Corriere della Sera del CEO dell'amministratore delegato di Delivero Delivero lo conoscete voi è stato uno i rider cosiddetti ragazzi che vanno in giro con la bicicletta anche non ragazzi che vanno in giro con la loro bicicletta sono andati una delegazione e una delegazione non so rappresentativa di chi anzi mi dicono alcuni amici rider rappresentativi di nessuno è andata da Di Maio per chiedere più dignità no perché quella roba lì devo dire la verità che vedere questi ragazzi che con la pioggia e col freddo lavorano per 5 euro a consegna fa un po' impressione anche se forse noi quando eravamo ragazzi lì per 50 euro al giorno cioè 100 mila lire al giorno stavamo 8 ore in piedi a un congresso ma chiudiamo questa parentesi la cosa fondamentale è che l'amministratore di Delivero che cosa dice oggi in un'intervista al Corriere della Sera amici miei se il decreto dignità come l'ha già soprannominato Di Maio dovesse essere approvato a parte essere un decreto medievale nella concezione proprio loro che nascono sul Rousseau nella concezione degli algoritmi e della rete a parte quello noi chiudiamo chiudiamo è simple as that chiudiamo non possiamo più andare avanti non possiamo assumere migliaia di collaboratori abbiamo 40 dipendenti amministrativi e migliaia di collaboratori che prenderanno 50 60 70 euro al giorno noi chiudiamo allora dico io cosa che non dice lui è meglio questa cazzata della dignità per cui si vedono dignità 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 o avere 50 60 euro al giorno 40 persone assunte da Delivero cosa è meglio cosa è meglio tra le due cose è meglio che i ragazzi da 18 anni manco i 50 euro si possono portare a casa perché dobbiamo fare perché li dobbiamo assumere a 18 anni è meglio questo vogliamo questo allora se vogliamo questo Delivero dice sapete che c'è di nuovo chiudo basta chiuso finito abbiamo abbiamo chiuso la partita siete contenti perfetto chiuse la partita non avremo Delivero che esiste in tutto il mondo la dignità in tutto il mondo non ci sarà soltanto in Italia invece ci sarà la dignità per cui la dignità lo stesso ragionamento caro Di Maio è quello per cui per dignità dobbiamo accogliere per dignità dobbiamo prendere i barconi per dignità dobbiamo prendere tutti quanti non è così sono stronzate quelli che oggi si lamentano delle dignità e fanno chiudere Delivero fra una settimana ci diranno che vorranno il reddito di cittadinanza quindi loro 500 euro al mese li prenderanno ma invece che lavorare per non fare un cazzo meglio così meglio così 500 euro sono 50 euro per 10 giorni diciamo che questi lavorano 20 giorni quindi chi lavora a Delivero prende meglio del reddito di cittadinanza ma non potrà più lavorare per Delivero perché non ci sarà vi sembra una cosa intelligente? andiamo avanti sulle cose fondamentali oggi ce l'ho un po' con il Movimento 5 Stelle ma d'altronde è una cosa che mi diverte quando leggo lo strillone del Movimento 5 Stelle cioè Marco Travaglio capisco che io devo stare dall'altra parte oggi Marco Travaglio che cosa fa? difende il Movimento 5 Stelle sulla scelta di Lanzalone che è stato nominato vi ripeto presidente della CEA ed è arrestato per i casini che avrebbe combinato secondo me tutta fuffa poco arrosto ma è la stessa fuffa per cui Travaglio avrebbe fatto inchieste per 100 giorni consecutivi ma difende Lanzalone e difende soprattutto non difende Lanzalone dice Lanzalone Lanzalone quello che è stato nominato a capo della CEA va bene? ed è agli arresti e che per qualsiasi altro partito gli avrebbe fatto gridare lo scandalo bene non è stato scelto da Grillo o Casaleggio ma che state dicendo? è stato scelto da Nogarin il sindaco di Livorno cosa che certifica Nogarin con un'intervista al fatto e quindi dice sì vabbè era una brava persona Nogarin penso che sia bravissima non posso credere a quello che lo accusano anche io non ci posso credere ma il punto fondamentale che cosa fa? che nella prima volta nella storia di Travaglio non vi è responsabilità oggettiva in Grillo e Casaleggio nella scelta del presidente della CEA nominato alla CEA da chi? da Virginia Raggi se fosse avvenuto per un altro partito c'era una responsabilità oggettiva ma se il Movimento 5 Stelle nomina alla presidenza della CEA uno che è accusato di essere un corruttore per lo Stato di Roma beh vabbè quelli là non c'entrano stupenda, fantastica quindi Lanzalone non c'entra lo stesso criterio per cui ieri a Repubblica TV viene beccato Davide Casaleggio il giovane figlio di Casaleggio il cui merito è essere solo figlio di Casaleggio il quale cosa dice? io non è vero che sono stato a cena con Lanzalone ci siamo trovati nello stesso ristorante ed era peraltro un altro tavolo oggi prima pagina in tutte le pagine di tutti i giornali si scopre cosa è successo è vero che non stavano nello stesso tavolo ma sapete cos'era? era una cena organizzata da Rousseau cioè dalla Davide Casaleggio e Associati cioè si sono trovati in un ristorante di Corso Vittorio a Roma in una cena organizzata dalla Casaleggio e Associati quindi è una cazzata quella che ha detto Davide Casaleggio che erano in due tavoli separati erano nella stessa cena organizzata dalla sua organizzazione ed erano sì in due tavoli separati ma erano solo loro erano solo loro capite come vi prendono per i fondelli poi vi parlano dignità, 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 onestà, onestà, onestà Lanzalone era uno degli happy few che era la cena di Rousseau magari è innocente io sono convinto che ci sia molta fuffa in questo arrosto romano ma quando quello si scusa dicendo ma non avevamo neanche lo stesso tavolo a stronzo l'hai organizzata tu quella cena? ma scusatemi mi scuso eh per le parolacce mi scuso mi scuso non dirò mai più ma l'hai organizzata tu l'hai organizzata tu quella cena è come se a casa mia organizzo una cena con 20 persone in tavoli diversi e poi mi dicono eh a casa tua c'era quel brigatista eh non lo sapevo che era un brigatista posso anche rispondere invece sai cosa rispondo? ma insomma era anche in un altro tavolo ma era a casa tua vabbè l'avete capito il concetto vabbè è molto divertente il BB e il Bibo tra Giordano e Telese da leggere oggi sulla verità sulla questione dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti perché uno dice vedi Telese insomma l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti ha fatto sì che i soldi da chi li prendi? dai privati Giordano dice sì li devi prendere privati ma in maniera diversa Salvini boccia ancora le ONG e l'unica storia divertente devo dirvi nel fatto che lui le bocci che è notizia degli altri giorni è che gli danno del fascista e la figura di quello che gli danno del fascista è circolata ieri in rete è una specie di caimano con una specie di cresta rossa qua anche io con i capelli devo restare un po' tranquillo perché sono veramente imbarazzante una cresta rossa qua pieno di orecchini e tatuaggi da tutte le parti gli fa fascista 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 e la nave dopo e lui dice certo farmi dire fascista da questo deficiente deve aver pensato Salvini la nave poi di questa ONG tedesca lo cancella Ricolfi oggi è molto divertente sul messaggero ve lo consiglio di legge spiega perché il 90% intellettuali cantanti ricconi intello sono contro Salvini erano a favore dell'immigrazione per il semplice motivo che questi fenomeni non li conoscono non li e l'anello al naso Antonella mi dice non dimenticare l'anello al naso c'è anche l'anello al naso ma di che parliamo dice Luciana quale altro è casaleggio ve l'ho parlato vabbè l'ultimo tema della giornata l'ultimo tema della giornata ecco la nave sta entrando in porto adesso dice Giuseppe quindi insomma mi sembra che non ci sia stata l'opposizione poi lo vedremo più tardi l'ultima cosa riguarda il Papa che parla un po' come Fontana il vice ministro il ministro per la famiglia perché ha detto condanna l'aborto selettivo e dice la famiglia deve essere fatto da uomo e donna il tempo il più entusiasta più dell'avvenire ancora il giornale di Cocci dice abemus papam molto duro nel passato nei confronti di questo Papa io direi che devo andare vi saluto stai zitto e sempre difesi delinquenti dice Giovanni Massesio questo deficiente questo deficiente di Giovanni Massesio sei un cretino io sto difendendo anche coglione sto difendendo anche il Movimento 5 Stelle non l'hai capito? se tu avessi sentito questa zuppa negli ultimi giorni avrei detto che questa roba qua non ha nulla non mi sembra che ci abbia nulla quel cretino che dice queste cose non ha capito cioè questi qua hanno il chip nel cervello non riescono a capire che io sto dicendo che la roba romana mi sembra una fuffa ma la difesa con la quale Casaleggio la Raggi Casaleggio non l'ho incontrato era una scena sua la Raggi mi ha attaccata perché sono donna ma che attacchiamo perché sei donna dai sto deficiente guarda io quando trovo questi deficienti qua sotto vabbè mi metto di cattivo umore ma chi se ne frega ci sentiamo più tardi alla faccia di questi cretini che sono capito? dicono sempre le stesse cose non sentono non sentono non quello che dico io quello che dicono loro stessi ciao